Un edificio strategico, quello che vedete alle mie spalle, per anni è stata una delle cliniche più importanti dell'Aquilano. Ora l'ex Sanatrix, da anni dopo il fallimento e poi il terremoto ha fatto il resto, giace in uno stato di abbandono. È di proprietà di una società aquilana, la todima dell'imprenditore Serpetti. La buona notizia è che finalmente ci sarà una nuova destinazione per questo edificio, che sarà però abbattuto e ricostruito. Una volta fatte queste operazioni sarà il GSSA, il Gran Sasso Science Institute, a diventarne proprietario. L'immobile quindi diventerà patrimonio del Gran Sasso Science Institute. La serie dell'ex clinica sarà adibita ad uffici per ricercatori e docenti. È un'operazione che si deve ancora concretizzare, commenta la rettrice Paola Emberardi, raggiunta telefonicamente. Ma ad ogni modo, questa operazione consentirà di risparmiare sui fitti, in particolare sullo stabile ex ISEF. Già nel 2020, in realtà, l'ex rettore Eugenio Coccia aveva fatto pubblicare un avviso per cercare un immobile. Si cercava un edificio non lontano dalla sede principale, quella accanto all'emiciclo. A questo avviso hanno risposto in due la CIMSRL, relativamente al Grand Hotel della Villa, e la todima dell'imprenditore aquilano Marino Serpetti per l'ex Sanatrix. La commissione giudicatrice ha ritenuto pidon alla serie dell'ex clinica, inutilizzata da tempo. La richiesta per l'acquista è di 6 milioni di euro. Ovviamente, come dice la rettrice, la cifra dovrà essere prima valutata dal demanio, e poi si potrà passare alla stipula del preliminare. Le idee sono chiare. L'edificio, se tutto andrà in porto, sarà abbattuto e ricostruito. Il GSSA prenderà l'edificio già ricostruito, però. Quindi i costi precedenti saranno a carico della società aquilana che vende. L'ex clinica a 3.000 m2 su tre corpi nel 2001, quella che era una delle cliniche più prestigiose dell'aquilano, dopo un periodo di crisi andò in fallimento. Il terremoto del 2009 ha fatto il resto alla struttura danneggiandola. Lo stabile da allora è in abbandono, anche pericoloso per chi abita vicino. Ad aggiudicarsi l'edificio messo all'asta fu serpetti appunto per 2,5 milioni di euro. I lavori non saranno velocissimi, ma di certo per il GSSAI sarà un'acquisizione importante, strategica e prestigiosa, a due passi davvero dalla sede principale di Via Iacobucci.